Entro settembre la regione chiuderà la campagna vaccinale se arriveranno ai giusti quantitativi di dosi. Inoltre mercoledì partirà la vaccinazione a disabili e fragili, come dializzati, trapiantati e oncologici. Saranno vaccinati gli accompagnatori e i caregiver anche per gli under-16 e anche le intere famiglie, ma in un secondo tempo. L'assessore Nicoletta Veri ha presentato il piano delle vaccinazioni seconda fase, affiancata dal presidente Marco Marsilio, dal direttore dell'Agenzia Sanitaria per Luigi Cosenza e dal referente regionale per i vaccini Maurizio Brucchi. Già nei prossimi giorni si aprirà intanto la piattaforma per le persone che hanno dai 79 ai 70 anni di età e così via. Si proseguirà per fasce. Poste italiane darà supporto, ma anche il sistema regionale sarà organizzato in sottogruppi per evitare intasamenti. Siamo stati la prima regione ad inventarci, passateci questo termine, la piattaforma. La piattaforma ha dato la possibilità ad esprimere la propria adesione a ogni cittadino, a ogni corregionale, che rientrava in quel target così come era scritto, era identificato nella piattaforma. Oggi si vaccina la popolazione fragile. Oggi si vaccinano prima le persone disabili. Perché dico questo? Perché la sottoscritta ha voluto fermamente in Commissione Salute a livello nazionale questo tipo di richiesta. 6.500 persone, oltre 80 anni non trasportabili, sono state già vaccinate. In questa fase sarà molto coinvolta la protezione civile. Intanto i numeri di quanto è stato fatto finora sono stati snocciolati. 58.132 operatori sanitari, 20.115 non sanitari vaccinati, 8.520 in RSA e RA, con il 78% di over 80 già fatti. Sul territorio, oltre ai 7 app già definiti negli ospedali, si hanno 118 sedi vaccinali, ha detto Brucchi. Cospoc fissi in palestre o a scuole e strutture date dai comuni, recependo anche le stanze dei sindaci. Saranno molto importanti le aree mobili per raggiungere tutti i comuni, anche quelli più interni. Cosenza ha ricordato tutti i passaggi fatti per le diagnosi, la cura, la prevenzione e la riabilitazione, con il protocollo post-covid, prima regione a farlo per i negativizzati che hanno ancora strascichi. È intervenuto poi Claudio Ferrante di Carrozzina Determinate, che ha definito uno scandalo, quello di non aver inserito i disabili nel piano nazionale, ringraziando invece la regione per quanto fatto. I numeri parlano e spengono le polemiche, ha detto Marsilio, elogiando organizzazione e grande capacità vaccinale che colloca l'Abruzzo ai primi posti. La regione, questo lo voglio subito sottolineare, facendo i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la struttura, dall'assessorato, all'agenzia, alle ASLA, al referente, che oggi posizionano l'Abruzzo tra le primissime regioni in Italia per capacità di vaccinazione rispetto alle dosi ottenute. Io credo che i numeri parlino da soli e spengano ogni tipo di discussione e di polemica.